ciao a tutti siamo mari bijoux e delia moda domani vi aspettiamo al mercatino in via dante alighieri qua a legnano vi aspettiamo tutti ciao avremo in vendita le nostre creazioni che sono particolari speciali uniche tutte quante soprattutto le sue qua il mercatino eccoci qui al mercatino qui sono le creazioni di marzia abbiamo questi bellissimi cilette no 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 siamo qui al mercatino sta andando abbastanza bene è una gran bella giornata abbiamo mangiato e ora sto facendo un panda qui eccoci qua intanto ci sono le attività ricreative della... eccoci qua marzia saluta 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 è un bel mercatino piccolo massimo o della città più no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.